ecco la seconda parte ecco la seconda parte allora se prenderemo tanti di quei corsi io metterò la vita a Kratos qui otterremo il primo potere l'ira di Poseidone ah un consiglio per finire il gioco bene vi consiglio di potenziare al massimo le spade del caos l'ira di Poseidone e le anime dell'Ade che otterremo successivamente grazie ammirate il potere dell'ira di Poseidone proseguiamo di qua grazie a tutti 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 Grazie. 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 Ando che cadere di sotto. Boh, mi sembra sbagliato. Grazie. Che palle. Mi si scordava pure come si uccide. Oh, che palle. Ok, adesso trova. Completato il quick time event. Hai proprio un bell'aspetto. Abbiamo solo un minuto e trenta circa, però vi farò vedere. Dovete entrare nella bocca dell'Hydra e andare dal capitano. Non sono tornato con te. Però di norma non dovrebbe essere morto. Vabbè, sì, su Kigastri ce l'ho brucia. Il combattimento con l'Hydra è finito. Ci vediamo al prossimo gameplay. Ok, ciao.